Siamo con Elio De Silvestro, insomma il gol che ha aperto le danze, sei stato molto furbo nell'andare ad anticipare le portiere con il giusto tempi? Sì, sì, quella è una mia caratteristica, tendo a chiudere i cross che vengono dalla parte opposta e ogni tanto mi capita di fare i gol. Sono contento perché mancava da un po' e contento che ovviamente è servito alla squadra per vincere. Insomma siete una rosa importante come ti trovi con i compagni di reparto soprattutto? Io mi trovo molto bene con tutti, siamo veramente una rosa competitiva e dobbiamo soltanto crederci fino in fondo. Nella prima parte di stagione sei stato un po' fuori, ora stai trovando continuità e è questo quello che ti serve? Sì, assolutamente la continuità mi fa bene, però sono a disposizione del mister per quando crede lui in partita in corso dall'inizio. Quindi cerco di fare sempre il mio massimo. Alla prossima avrete la San Benedettese, l'Avezzano può fare il colpo? Ma assolutamente, noi giochiamo ogni partita per vincerla, quindi andremo domenica lì per fare la nostra partita.